Le ali della sfinge di Andrea Camilleri. Parleremo oggi quindi di un romanzo di Andrea Camilleri che ancora una volta ha per protagonista il commissario Montalbano. Dobbiamo dire che noi abbiamo un podcast dedicato ad Andrea Camilleri, che abbiamo già fatto 12 video su YouTube su Andrea Camilleri, quindi sicuramente non è la prima volta che riflettiamo su questo autore, ma tutte le volte impariamo sempre delle cose nuove, per esempio, che lui è nato a Porto Empedocle, che addirittura, ecco una cosa che non sapevo, addirittura dal 2003 si chiama ufficialmente Porto Empedocle Vigata, perché velatamente la città inventata da Andrea Camilleri in realtà ha molti aspetti della sua città di origine, di nascita, cioè Porto Empedocle. Lì è nato nel 1925. Nel 1943 ha studiato a liceo classico e ha fatto la motorità senza esami perché stavano sbarcando gli americani in Sicilia. E poi, come dice lui stesso, ricordando questo sbarco degli alleati in Sicilia, inizia una sorta di mezzo peripro della Sicilia a piedi o su camion tedeschi e italiani, sotto un continuo mitragliamento per cui bisognava gettarsi a terra, sporcarsi di polvere di sangue e di paure. Poi si iscrive alla facoltà di lettere, anche se non arriva a laurearsi, incomincia a scrivere. A scrivere racconti, poesie, aderisce al Partito Comunista, studia regia all'Accademia di Arte Drammatica, che poi nel 1977 lo farà diventare, ovviamente, professore, gli darà una cattedra di regia. Per vent'anni sarà lì, all'Accademia di Arte Drammatica di Silvio D'Amico. Continua a pubblicare racconti, poesie. Però, attenzione, nel 1954 partecipa a un concorso per funzionari Rai, lo vince, e quindi per un certo periodo di tempo scriverà di meno, perché lavorerà come sceneggiatore, insomma, nel teatro, e poi, appunto, dicevamo, finalmente è nel 1992 che riprende a scrivere, dopo anni e anni di pausa. Scrive tanti libri, anche romanzi storici, come La scomparsa di Patò, che abbiamo insieme commentato su un altro video. Fino ad arrivare nel 1994, due anni dopo, al primo romanzo della serie del commissario Montalbano, La forma dell'acqua. Anche di questo abbiamo parlato la volta scorsa, quando abbiamo parlato di alcuni racconti di Montalbano. Poi, dicevamo che, ovviamente, da quel momento in poi gli arride il successo, anche per via della serie televisiva che incomincia ad essere trasmessa nel 1999, e poi abbiamo, insomma, il personaggio pubblico che è diventato Andrea Camilleri, fino alla sua morte, veramente un intellettuale, un punto di riferimento molto, molto importante. Terminato, quindi, il nostro discorso introduttivo su Andrea Camilleri, vorremmo parlare adesso un pochino delle ali della sfinge, dicendo prima delle cose un po' generiche, e poi riservandoci solo, solo l'ultimissima parte per qualcosa che magari potrebbe essere una sorta di spoiler, ma vi avviseremo prima. Per il momento tutte le cose che stiamo per dire spero che possano solamente invogliare alla lettura, e non sono spoiler. Quando, invece, spoilerò, cioè, insomma, andrò a dire delle cose che comunque ho intenzione di dire sulla fine del romanzo, vi avviso prima. Tanto per incominciare volevo dire riflettere sul titolo. Ecco, il titolo deriva da una sorta di tatuaggio che hanno le protagoniste donne che, ahimè, subiscono lo sfruttamento della prostituzione. Si tratta di ragazze russe che provengono quasi tutte da un villaggio russo che, attraverso tutta una serie di maneggioni e di delinquenti, arrivano in Italia per essere sfruttate nell'ambito del mercato della prostituzione e poi, come se non bastasse, finte società benefiche in realtà le recluteranno addirittura per fare dei furti nelle case. Ecco, le ali della sfinge per via di quella farfalla tatuata sulla scapola della prima ragazza che viene trovata morta sulla spiaggia. una sfinge è il nome della farfalla, questo. È una farfalla migratoria e notturna esattamente come sono migratorie perché provengono dalla Russia e notturne queste ragazze perché costrette a lavorare di notte perché costrette a fare quello che si dice il mestiere più antico del mondo. Nuove schiave degli anni 2000. Perché questo è uno degli ultimi libri di Montalbano. Uno dei più attuali uno di quelli che riflette maggiormente su quelle che sono le storture e diciamo le criticità della nostra società. Ecco, per esempio si capisce molto in questo libro come la realtà appare in un modo ma poi sotto sotto nasconde tutt'altro. poi ancora c'è l'apparenza le due ali apparenti della sfinge in realtà non sono ali perché appunto è una farfalla e queste ali sono quattro esattamente come sono quattro le schiave farfalle cioè le schiave russe che hanno questa farfalla tatuata sulla scapola destra. Mentre altre donne comunque di questa associazione diciamo per delinquere hanno altri tatuaggi. Ecco, quindi dicevamo un romanzo sicuramente molto importante perché ci rappresenta un Montalbano molto riflessivo un Montalbano che intrattiene un rapporto con Livia che vive a Boccadasse quindi in provincia di Genova in Liguria che è soprattutto un rapporto telefonico ad esempio nella trasposizione televisiva di questo romanzo Livia si sente si sente solo la voce di Livia non la si vede mai direttamente sulla scena e come usa dire Camilleri con questo suo linguaggio che è così un mix di italiano e di siciliano è un periodo tinto tinto vuol dire scuro quindi brutto quello di Montalbano dal punto di vista proprio sentimentale per questo rapporto molto difficile altalenante con Livia e questo è uno di quei momenti down diciamo non di quei momenti up perché i due essenzialmente non si vedono da talmente tanto tempo che ammettono l'uno all'altro di avere intrecciato altri rapporti sentimentali certamente effimeri ma comunque nel periodo di così tanta assenza e lontananza fra i due un'altra cosa che rende nirbuso quindi nervoso il commissario Montalbano è il lavoro per esempio il questore il questore spesso e volentieri chiama Montalbano per ostacolarlo per impedirgli di fare di svolgere le sue indagini nella maniera più piena e adeguata perché? perché il questore spesso deve tener conto di pressioni da parte di personaggi influenti che possono essere personaggi influenti della politica ad esempio oppure in genere persone che o della chiesa addirittura in questo romanzo persone quindi che fanno pressione appunto dicevo prima sul questore e quindi poi il questore se la prende con Montalbano perché le sue indagini sono un pochettino troppo libertine chiamiamole così ci vanno un po' oltre quelle che sono le regole e insomma tutto questo non va bene per il questore e automaticamente quindi Montalbano è nervoso perché proprio non riesce più a sopportare gli altri e forse neanche a sopportare se stesso addirittura infatti sente uno sdoppiamento interiore e dice che è come se in lui ci sono due persone e appena uno dei due diceva una cosa l'altro sosteniva l'opposto insomma è una fase di crisi insomma il contrasto il doppio lo vediamo in tante persone che Montalbano magari interroga ma lo vediamo addirittura anche nello stesso protagonista allora adesso possiamo parlare invece di quello che è il romanzo in buona sostanza mentre lui si sta facendo la doccia al mattino arriva la telefonata del solito Cattarella che gli dice guarda c'è una morta una donna morta che è stata trovata morta sulla spiaggia ecco che incominciano le indagini ci sono molti aspetti che veramente sono insospettiscono subito Montalbano che arriva quasi subito a intuire che quella morta che tra l'altro è morta per via di un colpo di pistola in faccia quindi anche deturpata probabilmente non è stata uccisa lì sulla spiaggia ma è stata portata lì e diciamo che la conferma di questo arriva anche con il medico legale di Montalbano non Montalbano il medico legale insomma che riesce a intuire alcune cose per esempio che c'è della porporina che è un materiale che si usa per dorare i mobili che subito permettono a Montalbano di iniziare le sue indagini magari cercando fra i restauratori di mobili o personaggi del genere ma una cosa importante è questa è che questa donna aveva appunto questi ali della sfinge aveva questa farfalla tatuata sulla scapola destra allora attraverso il suo amico che è un giornalista di Rete Libera riesce a far diffondere la notizia che è stata trovata morta una donna con una farfalla sulla scapola destra con una fotografia anche addirittura di questa farfalla pubblicata sui giornali questo permette di raccogliere la testimonianza di un signore anzianotto che racconta di aver visto una ragazza che aveva una scapola destra scusate tatuata una scapola destra tatuata cioè un tatuaggio di questa farfalla sfinge insomma sulla scapola destra che era essenzialmente una ragazza di cui lui si era innamorato e che spiava di nascosto ecco questo è già un primo appiglio lui riesce con questa testimonianza di questo signore riesce a capire che potrebbero centrare che potrebbero centrare delle persone come ad esempio quelle che raccolgono sulla strada le donne che sono in difficoltà che sono delle prostitute cercando di redimerle di salvarle così almeno si presenta la buona volontà ecco che cos'è la buona volontà è un'associazione appunto vi dicevo benefica filantropica che però in realtà nasconde qualcosa di losco e infatti questo è uno degli aspetti fondamentali oserei dire di questo romanzo di Camilleri cioè l'ambiguità di chi vuol fare del bene o dice di voler fare del bene alle persone che sono evidentemente in difficoltà e c'è una grossa differenza tra la modalità utilizzata da questa associazione organizzazione benefica cattolica che poi nasconde qualcosa ve lo dico alla fine però adesso ancora non sto spoilerando e invece il modo di essere di un altro religioso un padre diciamo così che si chiama padre Pinna che effettivamente va per le strade ad aiutare le prostitute a tirarle fuori dal giro si apre uno scenario riguardo a questa associazione per cui questo Monsignor Pisicchio che è responsabile tra virgolette la mente ecco di questa associazione della buona volontà si fa aiutare in maniera pratica e concreta da un personaggio piuttosto ambicuo che è questo Guglielmo Piro il quale è evidente già dall'interrogatorio dal dialogo che ha con il commissario Montalbano che nasconde qualcosa anche tutto questo tavolo pieno di fotografie di donne fa immediatamente insospettire il commissario Montalbano ecco lui tra l'altro questo Guglielmo Piro è praticamente quello che ha in mano l'amministrazione di questa associazione della buona volontà mentre il signor Lapis è un braccio destro che va in giro nei night sabato sera a raccogliere insomma queste queste donne e fa come si dice appunto in una battuta fa è costretto per dovere a passare sabato sera nei night lo dice un po' in maniera ironica il commissario Montalbano quando dialoga con lui ecco siamo arrivati praticamente al punto in cui adesso stiamo per dire un po' come va a finire la faccenda come va a finire il romanzo quindi fermatevi qua se volete leggere il romanzo da soli sta di fatto comunque che cosa succede alla fine del romanzo succede come spesso avviene non solo nelle indagini del commissario Montalbano ma anche in quelle di Leonardo Sciascia che si riesce abbastanza facilmente a trovare i pesci piccoli magari anche quelli che si sono macchiati di assassini eccetera ma non si riesce così facilmente a frenare fermare un traffico criminale come quello appunto diciamo del mercato della prostituzione dello sfruttamento della prostituzione oppure anche dello sfruttamento ai fini del furto quindi l'ultima parte del romanzo sarà caratterizzata da questo il tentativo ancora una volta da parte del questore di mettere da parte Montalbano di fermarlo di eludere le sue indagini e di tranquillizzarlo perché comunque effettivamente sono riusciti a scoprire che adesso sto spoilerando che la porporina in realtà doveva portare non ai restauratori che usano questo materiale per indorare i mobili ma a un proprietario di un colorificio che è questo morabito che è quello che appunto ha scoperto che una donna una donna che è affiliata a questa associazione della buona volontà che va in giro a far furti stava rubando in casa sua e quindi l'ha uccisa per questo motivo ma questo dicevamo è un pesce piccolo per arrivare ai pesci grossi quindi per arrivare a fermare questa maledetta organizzazione fintamente benefica occorrerà qualcosa d'altro occorrerà ancora una volta l'aiuto del giornalista di Rete Libera che è amico di Montalbano che sul suo giornale pubblicherà un po' tutto quello che sono i traffici loschi appunto di questo tale Monsignore il Monsignor Pisicchio è soprattutto di questo grande amministratore dell'associazione che è Guglielmo Piro quindi Montalbano sottostà all'ordine del questore cioè di farsi le ferie con Livia e non sarà comunque facile farle perché i due non si incontrano mai non riescono neanche a sentirsi per telefono per cellulare quindi ci sono continui manintesi fra i due però il commissario che sostituerà Montalbano nell'indagine probabilmente potrà arrivare a pescare questi pesci grossi questo Guglielmo Piro e forse addirittura anche il Monsignor Pisicchio che ha così tante entrature e quindi protezioni dall'alto ecco perché comunque quel giornale lì Rete Libera e qui anche questa è una sorta di non so come dire di proiezione di quanto è avvenuto anche per tanti giornalisti che magari hanno anche sacrificato la vita per poter denunciare la mafia la malavita in Sicilia riuscirà comunque proprio questa pubblicazione di queste notizie su questo giornale a creare le condizioni perché questa gente sia finalmente messa in carcere come è giusto che sia come anche il padre Pinna questo altro religioso invece buono sanguigno popolare aveva chiesto al commissario Montalbano cioè perché sarebbe assurdo che la vera beneficenza fosse macchiata dalla beneficenza falsa di associazioni come queste che poi hanno i loro secondi fini perché poi nell'opinione pubblica magari si fa sempre di tutto un'erba un fascio e non si capisce che c'è della gente o dei religiosi che davvero aiutano le persone che hanno bisogno e bisogna saper distinguere rispetto ad altri invece che fanno esattamente il contrario questo è Di Nardo il commissario di Montelusa che accoglierà i suggerimenti i consigli di Montalbano che ormai non può più portare a compimento lui l'indagine però il suo collega lo potrà fare a suo posto con tutte le dritte che gli dà il commissario Montalbano grazie a tutti